Hanno approfittato della breve assenza dei padroni di casa all'ora di cena, poco più di un'ora e mezza, e usando probabilmente un martello elettrico da demolizione si sono ricavati un varco nel muro laterale, quello della cucina. Una volta all'interno hanno cercato una cassaforte che non c'era, andandosene con qualche monile e lasciando dietro di sé danni per migliaia di euro. È accaduto lungo via Piave la strada che da Breda conduce a Candelù, dove i malviventi hanno preso di mira una casa singola e probabilmente tenuto d'occhio i proprietari. Una volta avuta via libera hanno tagliato la recinzione, si sono ricavati un varco nella siepe e invece di scassinare un infisso, operazione questa che avrebbe fatto scattare l'allarme, hanno scelto di demolire il muro. Un colpo sconcertante che si somma ai ripetuti furti avvenuti nel territorio di Breda negli ultimi mesi, ma che per le modalità alza l'asticella di quello che i malviventi sono disposti a fare. Io non ho parole per come sono avvenuti i fatti questa volta, sembra quasi un film quello che è accaduto. Ho già detto che siamo in ermia, a questo punto qua siamo quasi alla resa, io non voglio arrendermi e farò di tutto. Certo che comincia a diventare una battaglia impossibile o molto difficile da combattere a queste condizioni. Gli appelli alla prefettura lanciati nelle scorse settimane, prosegue Mosole, non hanno avuto seguito, ma una risposta può venire solo dall'ufficio del governo e dal ministero. Io spero che qualcuno si stia organizzando, mi auguro che in settimana riprenderemo i contatti e vedremo quali sviluppi ci sono stati. Che si convochi un tavolo, comunque io richiederò un colloquio nuovamente con il prefetto sperando che mi accolga, ma se lui vuole convocare tutti i sindaci benvenga, così almeno tutti quanti insieme vediamo che cosa possiamo fare.